All'età di 82 anni, nel giorno di Pasqua, Tonino Alfieri è passato a miglior vita. Padre del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, di Lucio Alfieri, presidente della BCC Buccino, Comunici Lentani, di Domenico e Elvira, lascia la moglie Maria e i figli da cui hanno ereditato una capacità di leadership nella politica, nell'economia, nell'impresa. Tonino Alfieri è stato un grande imprenditore, nonché uno dei fondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Copersito Cilento, diventata poi BCC e istituto bancario, di grande rilievo nel territorio campano. Uomo umile, schietto, intuitivo e carismatico, i funerali si sono svolti ieri presso la chiesa Sant'Antonio a Torchiara, alla presenza di tantissimi amici, mentre nel pomeriggio anche il governatore della campagna Vincenzo De Luca ha fatto visita alla famiglia per le condoglianze. Anche la redazione di Cilento Channel si unisce al dolore della famiglia Alfieri per la perdita del caro Tonino.